Area PIP di Eboli è stato deliberato in via definitiva lo scioglimento con conseguente messa in liquidazione del consorzio Area PIP. Contestualmente è stato nominato Ciro di Lascio nella funzione di liquidatore. Soddisfazione per il sindaco Massimo Cariello, il presidente del consiglio Fausto Vecchio, che per primo aveva chiesto lo scioglimento, l'assessore Giovanni Albano ed il presidente della commissione a ramo Cosimo Naponiello. Abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo, spiega il sindaco di Eboli Massimo Cariello. La maggioranza consigliare ha avuto lucidità e visione politica per disegnare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione. Importante è stata la sinergia messa in campo tra consorzio ed amministrazione comunale, grazie al costante impegno del presidente consortile Emilio Trotta e dei suoi più stretti collaboratori, a cominciare dal vicepresidente Carmela Landi e da Lucio Conforti del CDA.